Un terzo atto per dare più patos e rendere ancora più avvincente un duello che sta già infiammando il cuore degli appassionati nella stagione in corso. Oltre alle due sfide di campionato, Teramo e Giulianova si sfideranno anche nella finalissima di Coppa Italia. Biancorossi e Giallorossi hanno vinto entrambe le semifinali, i primi contro la Vastese, certificando la qualificazione con un rotondo poker a ritorno, i secondi imponendosi anche in trasferta al Petruzzi contro la Renato Curi Angolana. Rispettati i pronostici che volevano la sfida Teramo-Giulianova al momento del sorteggio, nello scorso mese di agosto. Ora la palla passa al Comitato Abruzzo, che dovrà scegliere la location, ma soprattutto vedere se confermare o meno la data del 31 gennaio. Il punto interrogativo infatti si crea pensando anche al derby di ritorno di campionato, previsto qualche giorno dopo, il 4 di febbraio, al Fadini. Improbabile che si giochino due sfide così sentite nello spazio di pochi giorni. Probabile dunque che l'atto conclusivo della Coppa Italia possa slittare e cambiare data.